Bullismo e cyberbullismo continuano ad essere un fenomeno dilagante. In Italia uno studente su quattro ha dichiarato di esserne stato vittima, mentre sempre dall'ultimo monitoraggio ministeriale il 17% dei giovani ha dichiarato di aver preso parte attivamente ad episodi di bullismo. Purtroppo c'è anche un aumento dei fenomeni di cyberbullismo di genere, cioè le ragazze sono più colpite dei ragazzi. Nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la provincia di Arezzo con il partenariato dell'Associazione Pronto Donne dell'Ufficio Scolastico ha organizzato un convegno sul tema. Il ruolo delle scuole deve essere in sinergia con le amministrazioni, con le polizie, con anche i servizi sociali, quello proprio di lavorare per la prevenzione, quindi dare un ruolo attivo ai ragazzi e sensibilizzare i ragazzi e famiglie. L'iniziativa fa parte delle attività del progetto Bullismo e Cyberbullismo, azioni in rete per prevenire e contrastare un fenomeno in crescita, inserito nell'ambito di Giovani Sì, progetto della regione toscana. Le scuole coinvolte sono due per ogni zona del nostro territorio, sì, della provincia, e coinvolge una scuola media e un istituto superiore. E finirà con un convegno finale. Il progetto, oltre alla formazione del personale docente con particolare attenzione ai referenti per il bullismo, prevede anche laboratori nelle scuole medie e superiori attraverso l'utilizzo della metodologia peer education. Ognuno ha più capacità di relazionarsi e dire cose con persone più o meno della stessa età, quindi stimolare questo, stimolare attraverso questo anche la preparazione dei vari docenti, e in fondamentale migliorare il più possibile quella anche con le famiglie.